Oggi è una giornata importante per l'anno l'ingresso nel gruppo delle Città del Vino, Oscar Pezzi. Sì, oggi ci consegnano la bantiera Città del Vino. Noi abbiamo voluto come amministrazione comunale questa adesione a questa associazione importantissima perché il nostro territorio è vitivinico, è un territorio che è sempre stato vitivinico e che ultimamente è molto di più di quello che era negli anni precedenti. Abbiamo cantine specializzate su territori molto importanti che stanno dando vita a una nuova era per il vino su all'anno. Cosa significherà praticamente l'entrata in questa associazione? Ma questa è una associazione che a noi permette la promozione del territorio. Quindi il nostro scopo come amministrazione comunale è quello di promuovere il territorio e quindi questo aiuterà le nostre attività di recezione, le nostre attività enoturistiche perché la promozione del territorio per un comune piccolo come il nostro, per un comune dell'entroterra, sono sempre molto importanti. Oggi un incontro pubblico per far sapere a tutti che ad all'anno si produce un vino di qualità. Eh sì, all'anno è da anni che ormai produce vini di alta qualità. Abbiamo cantine molto molto importanti, cantine che sul territorio, su tutta la regione, sono già abbastanza conosciute e che stanno sempre di più migliorando sia tecnicamente e sia con impianti nuovi di vigneti tutta l'attività. D'altra parte con un istituto agrario di primo ordine, una città, un centro come l'anno deve puntare sul settore dell'agricoltura? Ma all'anno deve puntare sul settore dell'agricoltura? Anche perché c'è il suo tecnico agrario sicuramente, ma sul settore enologico che oggi è uno dei settori più importanti dell'economia della nostra regione e che credo che, non dico che possa superare le regioni che sono da decenni, da sempre produttori di vini, ma si sta avvicinando a queste situazioni.